Antonietta Verde Ana F Paola Paola e per tutti gli iscritti un doppio sfido Ciao a tutti, bentornati sul canale bentornati su questi grattini con dedica cominciamo con questo tutto per tutto per Antonietta Verde 23, 26 33, 12 e 16 prima fila 29 40 34 per 1 35 ci siamo andati vicino vediamo la seconda fila 22, ci abbiamo il 23 24, ci abbiamo il 23 42 con la quarantina non ce n'è e 43 non c'è L'ultima fila 25, c'è il 26 23 23, attenzione 23 abbiamo preso 44 non c'è e 13 intanto vediamo per quanto moltiplichiamo per 2 va bene e sotto il 23 ci sono 5 euro quindi Antonietta abbiamo vinto 10 euro con il tuo tutto per tutto ora passiamo al battaglio navale per Anna F Anna F andiamo a sapere anche il tuo battaglio navale prima coordinata 2 e 2 B4 un altro pezzo di barchetta H5 un altro pezzo di barchetta E4 un altro pezzo di barchetta D4 acqua F1 un altro pezzo di barchetta F2 bene un altro pezzo di barchetta E5 un altro pezzo di barchetta D1 un'ultima coordinata B6 niente adesso abbiamo il forziere acqua 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 le barchettine altre barche altra acqua 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 niente purtroppo Anna F questo è perdente continua a chiedere biglietti ora Paola Paola ecco il tuo multistar numeri numeri vincenti 26 25 52 e 39 51 26 26 è buono 26 c'è abbiamo trovato 22 non c'è 42 42 non c'è e 37 non c'è vediamo il moltiplicatore scusate il numero bonus ok vediamo per un moltiplichiamo per uno vediamo sotto il 26 cosa c'è altri 5 euro vediamo se c'è altro Paola 21 19 e 23 16 non c'è 48 I&M 32 non c'è 23 girato e 27 la stella 56 niente 34 e 24 38 18 e 46 17 la stella niente quindi solo 5 euro abbiamo vinto perché questa la moltiplicava per uno Paola Paola grazie ci hai fatto vincere e ora passiamo al doppia sfida da 5 dedicata a tutti gli iscritti di 26 17 36 12 poi i capricci su grattino e 32 la sua vita vale per tutti gli iscritti come l'altro video che ho fatto 35 34 29 31 28 21 37 non c'è 44 I&M 13 non c'è abbiamo il 12 ultimi tre numeri 27 c'è il 26 43 non c'è e 15 non c'è vediamo le cifre 50 euro 5 euro e 10.000 un altro da 50 100 euro e 500 e 500.000 euro 25 euro 5 euro e sono 2 500.000 e sono 2 attenzione chissà 500 ed è solo 1 100 quindi ho 55 euro niente 10.000 quindi questo grattino per tutti gli iscritti è perdente ma voi continuate a iscrivervi e continuate a chiedere i miei biglietti ciao un bacio a tutte e al prossimo video ciao ciao